Ciao ragazze, benvenuta alla lezione di mercoledì della Girl Class a casa. Oggi avremo due lavori. Un primo lavoro sarà di intervalli di 4 minuti per 5 volte, quindi un lavoro da 20 minuti. Nei 4 minuti dovremo fare 24 ripetizioni di crunch foot to foot. Cosa vuol dire? Mi tocco i piedi per 24 volte. Dopodiché, con l'aiuto di un rialzo, Copenhagen Abduction. Quindi da qua, gomito in appoggio, piedi in appoggio e mi vado a sollevare. Ne facciamo 8 da un lato e 8 dall'altro. Dopodiché, 8 push up su un rialzo. E per finire, 30 secondi di wall sit. Secondo lavoro è di 12 minuti, ad Imon. Occhio, avremo 4 stazioni che si ripetono per 3 volte. Occhio perché nelle stazioni avremo più di un esercizio. Saranno sempre due esercizi da eseguire nel minuto, quindi sarà molto intenso come lavoro. Primo minuto, 20 alternate split squat jump. Cosa sono? Più semplicemente sono dei lunges alternati. Quindi parto da una posizione shiftata dei piedi, tocco e cambio. Aiuto. Ne faccio 20 sempre nei, sempre nel minuto. Eseguo 10 ripetizioni di mountain climbers a gambe a un minuto. Cosa vuol dire? Parlo da una posizione di plank, avvicino le gambe e le distanze. Parlo da una posizione di mountain climbers a gambe a un minuto. 20 goblet squat e di nuovo 10 mountain climbers a gambe a un minuto. Finisco con 20 ripetizioni di superman in push up position. Quindi da qua vado a staccare, ma il resto è il piede sinistro e vicino a essa. E li interno. E per finire 10 back extension. E tutto per 3 volte. E tutto per 3 volte. Grazie a tutti.